Morire in barella senza che nessuno se ne accorga. Se ne è andato così un anziano paziente è giunto ieri sera all'ospedale Mazzini di Teramo lamentando alcuni dolori. Pare che il pronto soccorso fosse ingolfato di lavoro e i medici avessero invitato il paziente ad attendere. La morte sarebbe sopraggiunta senza che nessuno se ne accorgesse circa cinque ore dopo il suo arrivo. L'uomo sembrava dormisse sulla barella mentre non dava più segni di vita. Secondo il racconto dei medici l'uomo deambulava tranquillamente quando è giunto in ospedale. In attesa del percorso della magistratura il manager della ASL Paolo Rolleri ha avviato un'indagine conoscitiva interna. Ho disposto l'immediata verifica dei fatti ha detto ora in corso da parte del primario del pronto soccorso con il personale sanitario presente al momento dell'arrivo del paziente dopo il decesso. Se si dovessero verificare anomalie legate a responsabilità o negligenze ha aggiunto sarà mia cura intervenire con decisione senza esitazione. Il fatto che il medico di turno abbia chiesto lui stesso l'autopsia dimostra che qualcosa di strano deve essere accaduto al paziente. Spero che tutto si chiarisca conclude e che venga fuori la realtà dei fatti.